Dopo la convincente vittoria casalinga per 3-0 contro la Paganese, l'Avellino ora deve trovare la svolta anche in trasferta. La prossima partita, quella contro un Palermo decisamente in salute, potrebbe essere l'occasione giusta per affermare, senza possibilità di smentita, che questa squadra ha imparato la lezione ed ha davvero voglia di dimostrare di che passa è fatta. È ovvio però che per farlo ha bisogno di una prova di forza. Vincere fuori dal Partenio Lombardi resta una priorità, considerando che al momento la casella vittorie in trasferta è impietosamente ferma allo zero. Cinque le partite giocate, zero appunto le vittorie, quattro i pareggi, una sola la sconfitta contro il meno quotato Monterosi, davvero pesante. Insomma uno scorre poco gratificante per chi invece aspirava ad una classifica d'alta quota. C'è da dire per la verità di cronaca che in taluni casi il pareggio non sarebbe nemmeno da buttare via. Vedi Castellammare di Stabbia o Catania. In entrambi i casi si trattava di partite delicate e giocate sul filo della tensione, per cui con particolare riferimento al caso Catania possiamo addirittura parlare di risultato positivo. Agguantato all'ultimo dall'incocciata di Luigi Silvestri, che in un sol colpo salvò risultato e panchina Piero Braglia. Meno entusiasmante, anzi al limite della debacle, l'1-1 contro il fanalino di coda Fidelissandria. Pochissima cosa, figlia di pochissimo gioco. Ora è tempo di cambiare passo. Domenica alle 14.30 ci sarà una prima occasione. Poi la Terra Sicula ne offrirà un'altra il 14 novembre contro la CR Messina di Eziolino Capuano. Certamente non si potrà attendere oltre. Le occasioni d'ora in poi andranno colte nel segno della continuità e della consapevolezza che questa squadra ha troppo terreno da dover recuperare.